Buongiorno, sono Tabarelli di Nomism Energia, economista dell'energia, da oltre 30 anni studio le faccende legate ai prezzi ai mercati dell'energia e ultimamente, negli ultimi anni, anche ai cambiamenti climatici. La giornata di oggi è stata dedicata a questo tema e io ho cercato di far vedere come gli obiettivi siano distanti rispetto a quello che sta accadendo nella realtà, perché ad esempio rispetto al 1990, anno di riferimento, le emissioni di CO2 sono aumentate di un 30% a livello globale, rispetto al 92 che fu Rio di Janeiro, da cui partì poi l'attività per arrivare a Chioto nel 97, abbiamo un aumento di 11 miliardi di tonnellate di CO2 a livello globale in base annua, mentre l'Europa che ha fatto molto, sta cercando di fare molto, ha ridotto di un miliardo. In sostanza l'Europa, la mia tesi comprovata dai fatti, dalle evidenze, è che l'Europa sta facendo la prima della classe con notevoli costi, ma con i risultati che vengono vanificati da quello che sta accadendo nel resto del mondo, in particolare in Asia, dove la Cina consuma tantissimo carbone, e anche negli Stati Uniti, dove i prezzi di energia sono bassi, dove è in corso una rivoluzione energetica per la maggiore produzione di gas e idrocarburi. Ma questo obiettivo così importante, eticamente e a volte idealisticamente, cozza contro l'esigenza di fare economia, di fare occupazione, di ostacolare l'arretramento economico dell'Italia e dell'Europa che si traduce, ahimè, in bassa occupazione. Questo ci impegna a far sì che l'energia venga fornita alle fabbriche a prezzi competitivi, e questo non sta accadendo e una delle ragioni è proprio il grande sforzo che stiamo facendo per i cambiamenti climatici noi in Europa. Alla fine abbiamo i prezzi dell'energia che qua in Italia sono i più alti in Europa, fra i più alti al mondo, sia per costi e incentivi rinnovabili, sia per debolezza del nostro sistema energetico, importiamo molto, sia per tassazione. Questi prezzi si confrontano con quelli degli Stati Uniti che sono di un terzo rispetto ai nostri e di un terzo sono anche quelli ancora più bassi che quelli della Cina. Pertanto sforzo immenso ribadito negli ultimi giorni di ottobre con il nuovo pacchetto energia-clima. Notevole sforzo con prezzi di energia in aumento rispetto agli altri principali paesi dove sta andando tutto il sistema produttivo e manifatturiero. Cambiamenti climatici riguardano la geologia, riguardano i mille anni, riguardano le future generazioni. Noi siamo abituati a fare i conti noi economisti con i bilanci annuali, mensili, costi e ricavi e questi costi, questi prezzi non tengono conto di questi cambiamenti climatici. Tuttavia in Europa per l'avanguardia nelle politiche che ci contraddistingue stiamo facendo qualche cosa. Abbiamo messo su un sistema di commercio dei permessi di emissioni, Mission Trading System, dove però i prezzi sono 5 euro per tonnellata di CO2 ridotta. Sono molto bassi rispetto a quelli di dieci anni fa, le previsioni allora erano che i prezzi salissero 40-50, sta di fatto che sono molto bassi. Il prezzo della CO2 è un primo indicatore e questo ci fa pensare perché il costo che ci viene a costare ridurre la CO2, che è il gas a effetto serra attraverso il fotovoltaico, costa più di 1000 euro. Da 1000 euro a 5 euro ci dà un'idea della non efficacia delle nostre politiche. Certificati bianchi è una soluzione migliore rispetto al fotovoltaico perché certificati bianchi consentono di ridurre la CO2 avendo dei risparmi anche monetari, perciò hanno dei prezzi della riduzione del CO2 addirittura negativi, perciò è la soluzione su cui anche l'Europa, le politiche stanno cercando di spostarsi anche verso più efficienza energetica, cosa che questa agenzia dove ci troviamo sta cercando di fare da molti anni anche molto bene. Perciò stiamo facendo molta confusione a livello globale, pochi risultati, però nel nostro piccolo qua in Italia stiamo sviluppando nuove tecnologie con dei buoni effetti perché comunque a livello globale prima o poi andremo tutti in questa direzione. Del resto pochi giorni fa, a metà novembre, la Cina e gli Stati Uniti si sono accordati se non altro per un futuro impegno che non sappiamo ancora bene quale sarà.